salve e benvenuto a questo altro mio nuovo video tutorial dove vi mostro come è possibile passare il nostro programma sopra il nostro pick semplicemente utilizzando un software della micro c quello che utilizzerò è la versione ip che è dedicato proprio al passaggio degli eseguibili sopra i nostri pick quindi la prima cosa che dobbiamo fare è prendere il pick e metterlo sullo zoccoletto in questo caso il mio pick è un pick 16 f1503 ecco mettiamo ecco qua ben serrato quindi connetto se ci dà questo avviso è per ricordarci che dobbiamo utilizzare la tensione del nostro programmatore pick kit 3 lui questo pick l'ha riconosciuto di effetti video che è un 16 f1503 ok allora per fare questo andiamo su setting dopo che lui ha finito a fare la verifica ok setting ad vinci mode entriamo power e gli diamo questa spunta torniamo indietro e a questo punto facciamo file importa excel e l'eseguibile e andiamo a a cercare di cercare eccolo qui adesso non ci resta altro che programmarlo il compagno di uno stesso avviso però a questo punto ecco effettuata la programmazione oltre a questo noi abbiamo anche altri strumenti tipo la cancellazione dell'eprom la lettura e la verifica cosa qui non lo so che cos'è non l'ho mai utilizzato ok vi ringrazio della vostra pazienza e vi auguro una buona giornata arrivederci